Oltre 80.000 presenze, un record per il Festival dei Due Mondi di Spoleto che ha chiuso la 59esima edizione con il tradizionale concerto in Piazza del Duomo con Antonio Pappano e Stefano Bollani. Per la prima volta insieme, anche con l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, hanno eseguito Gesci. Ascoltiamo. 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 Ascoltiamo.